Le figure di Gaio Mario e Lucio Cornelio Silla dominano la scena politica della Roma repubblicana alla fine del II secolo anno corrente. Le loro personalità, ideologie, riforme, guerre e morti hanno avuto un impatto significativo sul corso della storia romana. In questo articolo, approfondiremo la nostra conoscenza di questi due personaggi titanici, esaminando i dettagli salienti che li contraddistinguono. Personalità, Gaio Mario, era un uomo rude e pragmatico. Proveniva da umili origini e si distingueva per il suo valore militare e la sua abilità strategica. Non era incline all'eloquenza o alla raffinatezza, preferendo l'azione concreta e il pragmatismo. Lucio Cornelio Silla, era un uomo colto e raffinato. Apparteneva all'aristocrazia romana ed era noto per la sua intelligenza, il suo gusto per le arti e la sua abilità oratoria. Era un abile stratega militare, ma possedeva anche una vena di crudeltà e spietatezza. Ideologie, Gaio Mario, era un populista, favorevole all'allargamento dei diritti politici ai cittadini più poveri e all'aumento del potere dell'esercito. Vedeva il suo ruolo come difensore del popolo contro l'oppressione dell'aristocrazia. Lucio Cornelio Silla, era un conservatore, difensore dei privilegi dell'aristocrazia e del potere del Senato. Credeva nell'ordine e nella tradizione e si opponeva alle riforme che avrebbero indebolito l'autorità del Senato. Riforme, Gaio Mario, riformò l'esercito, aprendolo ai cittadini di tutte le classi sociali e professionalizzandolo. Questo permise a Roma di disporre di un esercito più efficiente e potente, in grado di affrontare le sfide militari dell'epoca. Lucio Cornelio Silla, riformò il Senato, aumentando il numero dei senatori e limitando il potere dei tribuni della plebe. Il suo obiettivo era di rafforzare il Senato e renderlo più stabile e indipendente. Guerre. Gaio Mario, vinse contro i Numidi in Africa a 107-105 a punto C, contro i Cimbri e i Teutoni in Galli a 100-201 a punto C, e contro Mitridate e Sesto del Ponto in Asia minore 88-87 anno corrente. Le sue vittorie militari gli permisero di ottenere un'enorme popolarità e di rafforzare la potenza di Roma. Lucio Cornelio Silla, vinse contro Giugurta e Numidi a 106-104 anno corrente, contro gli Italici nella guerra sociale 91-88 anno corrente, e contro Mitridate e Sesto Ponto in Asia minore 87-85 anno corrente. Le sue guerre civili contro Mario e i Populares gli permisero di assumere il controllo della Repubblica e di imporre la sua dittatura. Gaio Mario, morì di malattia nell'86 anno corrente, durante la guerra civile contro Silla. La sua morte segnò la fine della sua ascesa politica e l'inizio del dominio di Silla. Lucio Cornelio Silla, si ritirò a vita privata nel 79 anno corrente, dopo aver abdicato alla dittatura. Morì nel 78 anno corrente, lasciando un'eredità controversa di riforme e repressioni. Conclusione, Mario e Silla furono due figure chiave nella storia romana, le cui azioni e ideologie hanno plasmato il destino della Repubblica. Le loro personalità contrastanti, le loro battaglie epiche e le loro riforme significative hanno lasciato un segno indelebile sulla memoria collettiva. La loro eredità continua ad essere oggetto di studio e dibattito, a dimostrazione della loro influenza persistente sul corso della storia. Grazie a tutti.